sappiate che finirete su facebook e come ci vede saluta saluta saluto ma ci manca la musica oggi andiamo a mettere la musica sennò se sento tutte le cazzate che dice la buona vabbè aspetta lo chef famo rubia perché dio di benedica lo chef magna però qui ci sono le prove ci sono le prove qua ragazzo che ragazzi ci siete siete ci siamo sorriso non è la foto è un video che finirà su facebook domani è peggio